Replica Danza con me con Roberto Bolle Comincerà con un grande show-evento in onda stasera in prime time, trattasi di Danza con me, la serata-evento, che vede come protagonista Roberto Bolle, il quale tornerà dopo il grande successo del suo primo show dal titolo La mia danza libera che ottenne degli ascolti ben al di sopra delle aspettative sulla rete Ammiraglia Rai con una media di circa 4 milioni di spettatori. E più del 20% di Share. Ospiti Danza con me di Roberto Bolle, ecco chi ci sarà alla serata-evento di Rai 1, e così ecco che dopo quel grande successo, la Rai è deciso di riaffidare una serata-evento a Roberto Bolle che stasera un grado gennaio sarà in prima serata su Rai 1 con questo show, che potrà contare sulla presenza di un bel po' di ospiti e protagonisti del mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Nel dettaglio le anticipazioni sulla serata-evento Danza con me di Roberto Bolle rivela che sul palco ci saranno Tiziano Ferro e Fabri Fibra, reduci dal successo, che stanno ottenendo con le hit Stavo pensando a te, che sta scalando le classifiche di vendita su iTunes. E poi ancora tra gli ospiti ufficiali di questa serata-evento in onda su Rai 1 vi segnaliamo anche la presenza di Marco D'Amore, l'attore protagonista della serie TV Gomorra 3, dove lo abbiamo visto interpretare i panni di cielo di marzio prima del tragico epilogo finale visto proprio nell'ultima puntata della terza serie. Rivedi Danza come del 1 grado gennaio 2018 in replica streaming online, e poi ancora tra le presenze, che sono state confermate in questa serata speciale vi segnaliamo quella di Virginia Raffaele, che potrebbe vestire i panni di Carla Fracci e bacchettare a suo modo il grande ettoile italiano. Confermata anche la presenza di J.P. Cucciari, Piff e Miriam Leone, che si metteranno in gioco così come il ballerino americano Lil Buck, alla sua prima esibizione assoluta in Italia. Lo show-evento di Roberto Bolle di questa sera potrà essere seguito in diretta streaming sul sito Rai TV, mentre coloro che non potranno vederlo in TV stasera potranno rivederlo in replica streaming online sul sito web Rai Play It, di cui potete scaricare anche l'applicazione gratuita per tablet e cellulari. In questo modo potrete rivedere la serata speciale di Danza come in streaming in qualunque momento lo desiderate, senza dover ricorrere per forza al computer di casa. Non è prevista un'ulteriore replica dello show sul canale Rai Premium. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.